L'accordo per il 2019 tra i sindacati CGL Cisle Will e il Comune di Reggio Emilia per un nuovo sistema di agevolazioni sulla TARI, la Tassa dei Rifiuti, a favore di famiglie e persone meno abbienti. Ne parliamo con River Tagliavini, responsabile della contrattazione sociale per lo SPI CGL di Reggio, che ha seguito attivamente tutte le fasi della trattativa. La TARI ha subito in questi anni dei sensibili aumenti. Come sindacati ci siamo quindi posti questo problema e ci siamo adoperati per risolverlo. Dopo una serie di incontri con l'amministrazione comunale abbiamo concordato un nuovo sistema di agevolazioni che rispondesse a questa necessità. Le famiglie che hanno un ISEE fino a 10.000 euro possono ottenere delle riduzioni sulla parte fissa della tariffa. Chi ha un ISEE fino a 6.000 euro avrà uno sconto del 40%, chi ha un ISEE da 6.000 a 8.107 avrà una riduzione del 30%, chi ha un ISEE fra 8.107 e 10.000 euro avrà una riduzione del 20%. In che modo si possono ottenere? Cosa bisogna fare? I cittadini che ne hanno diritto, le famiglie che ne hanno diritto, devono presentare richiesta ad IREN su un apposito modulo. Questo modulo deve essere consegnato a IREN entro il 15 di aprile del 2019. In che modo il sindacato può assistere i cittadini che ne hanno diritto? Possono recarsi al proprio CAF, presso il proprio sindacato, per la compilazione dell'ISEE. potranno trovare questo volantino che sintetizza questo accordo. Per il cittadino che si avvale del nostro CAF, quando andrà a ritirare la dichiarazione ISEE, troverà presso quella stessa sede dei nostri addetti in grado di stampare il modulo e di assisterli alla compilazione. Ci raccomandiamo di venire con l'avviso di pagamento che tutti hanno ricevuto l'anno scorso, quando era il momento di pagare l'Atari, che contiene tutte le informazioni necessarie per la compilazione del modulo. L'avviso di pagamento e non la ricevuta di pagamento che invece non contiene queste informazioni. Queste agevolazioni riguardano solo il comune di Reggio Emilia? Sì, questo accordo riguarda solo i residenti nel comune di Reggio Emilia. In molti altri comuni della provincia abbiamo stipulato accordi per delle agevolazioni sull'Atari, per cui il consiglio che do a chi risiede fuori dal comune di Reggio Emilia è di rivolgersi alle sedi sindacali del proprio comune o direttamente agli uffici comunali per verificare se ci sono attivi questi accordi e per conoscerli nel dettaglio in modo da non perdere delle agevolazioni che potrebbero avere.